adesso la pace e disinnescare una catena di odio che poi porta a orribili cose come quelle che abbiamo visto negli Stati Uniti l'altro giorno serve sempre guardare agli altri non come nemici ma come persone che hanno idee diverse questa è una grande responsabilità dei politici il confronto il dialogo anche serrato ma purché non sia mai una questione personale si combattono le idee si combattono le persone il meeting di Rimini è un'ottima occasione per discutere dialogare e conoscere realtà importanti che collaborano anche con noi per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda la politica estera quindi è una bella iniziativa alla quale ho sempre partecipato con interesse